Benvenuti su Magica Pugliaccià, un canale online che offre contenuti ad alto livello e promuove lo sviluppo economico e culturale della nostra regione nelle sue molteplici espressioni, dal turismo al cinema, dalla letteratura alla ricerca scientifica. La nostra innovativa tecnologia in streaming consente trasmissioni in diretta, ad alta definizione, con effettivisivi, titoli e picture in picture, senza fastidiosi banner pubblicitari.